Giovanni Biello, dirigente del Monteroduni, sconfitto in finale per 5-3 con il vintiatura in questa Molise Cup di seconda categoria. Partita davvero bellissima, voi sotto 3-0, capace di rimontare fino al 3-3 e poi il vintiatura ha avuto la meglio, ma davvero merito a entrambe le squadre, è stata davvero una gara bellissima. È stata una partita bellissima, corretta in campo, che posso dire, purtroppo il vintiatura ha meritato, noi purtroppo avevamo la mancanza del portiere, anzi complimenti al portiere che ci ha giocato con noi, ma purtroppo c'è chi vince e c'è chi perde. Ricordiamo che voi insieme al vintiatura avete vinto il vostro rispettivo campionato, quindi l'anno prossimo c'è l'occasione di ben figurare nella categoria superiore che è la prima. L'importante è di fare la squadra, di prendere 3-4 elementi di livello superiore e poi giocarcela, quest'anno ce la siamo giocato con tutti e l'anno prossimo cerchiamo di fare lo stesso. Infine un applauso anche a questi tifosi che vi hanno seguiti in gran numero, vi hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Sì, questi vengono sempre dalla prima all'ultima, ci sono stati vicini e un complimento, voglio fare anche ai tifosi del vintiatura, sono stati ottimi tifosi, non c'è nulla da dire.